buongiorno a tutti oggi parliamo della dama di shallot di waterhouse john william waterhouse nasce nel 1849 a roma da genitori inglesi entrambi pittori si trasferisce ben presto in inghilterra e studia la royal academy of arts a londra è definito come un tardo pre raffaellita o pre raffaellita moderno nel momento in cui waterhouse inizia a dipingere in maniera strutturata la confraternita dei pre raffaelliti si è già sciolta da qualche anno ma il suo stile ricorda i pre raffaelliti un po perché nei suoi quadri vengono trattati i temi medioevali e un po per lo stile iper realistico associato però ad ambientazioni e atmosfere irreali quando abbiamo visto l'ofelia di mille abbiamo visto che la confraternita dei pre raffaelliti aveva come obiettivo quello di allontanarsi dallo stile accademico e di riportare la pittura a una condizione antecedente all'umanesimo in particolar modo antecedente al pittore raffaello tuttavia waterhouse sebbene sposi questa concezione artistica nello stile subisce in parte l'influenza impressionista dell'epoca la storia della dama di charlotte è tratta da un poema di tennison che a sua volta si è ispirato a un racconto medioevale italiano la trama è molto triste in realtà perché la dama di charlotte è una giovane donna che vive nel regno di re artù è vittima di una maledizione la dama di charlotte morirà non appena i suoi occhi vedranno camelot vive quindi rinchiusa in una torre isolata e trascorre tutto il suo tempo tessendo l'unico contatto col mondo esterno è dato da uno specchio posizionato proprio di fronte alla finestra finestra da cui non si può affacciare pena la morte vive dunque esclusa dal mondo e dalle sue emozioni raffigurando attraverso il ricamo proprio le scene che vede riflesse un giorno sente provenire dall'esterno uno scalpiccio di zoccoli è l'ancillotto che canticchiando sta passando di lì in sella al suo cavallo la dama che è stanca della sua condizione di vita ed è attratta da questi rumori alla fine decide di guardare fuori dalla finestra ovviamente insieme al cavaliere di cui lei si invaghisce immediatamente vede anche camelot la maledizione quindi si avvera la dama di charlotte sa che morirà esce dalla sua prigione si adagia su una barca su cui incide il suo nome e si abbandona le acque del fiume fiume la cui corrente la conduce proprio a camelot camelot dove verrà accolta nel frattempo morta proprio dall'ancillotto l'ancillotto rimane colpito dalla sua bellezza il quadro rappresenta il momento in cui la dama sta salpando verso camelot e le energie iniziano ad abbandonarla come dicevamo poco fa c'è una tendenza nello stile di waterhouse all'iperrealismo guardate i ricami dorati e i motivi grafici che spiccano sull'abito bianco abito che è più chiaro rispetto allo sfondo scuro e fa emergere la dama in tutta la sua purezza guardate le pieghe sulla tela realizzata dalla dama questi arazzi che sembra di poterli toccare di percepirne nella consistenza le figure sempre ricamate di cavallo cavaliere forse addirittura il bell'ancillotto forse uno dei tanti sulla via di camelot che lei vedeva riflessi nello specchio e poi c'è l'iperrealismo della vegetazione vedete come ben definita ogni foglia ogni giunco ci sono dei fiori nell'acqua binomio molto caro i pre raffaelliti vi ricordate l'ofilia di mille la dama di charlotte come aspetto inoltre non rappresenta la bellezza perfetta e convenzionale del classicismo ma ha un aspetto emaciato la carnagione pallida gli occhi segnati da un contorno più scuro è una donna fragile e sofferente i capelli sono sciolti non sono sistemati in alcuna conciatura particolare si lasciano cullare dal vento la bellezza della nobiltà lascia il posto alla donna comune la dama di charlotte ha cucito tutta la notte dopo tutto e allo stesso tempo è destinata a morire di lì a poco lei lo sa che sta per morire né consapevole lo sa perché lo ha scelto dopo tutto questo non è semplicemente un bel quadro evocativo e di ispirazione medievale che ci fa sognare è un quadro emotivamente molto coinvolgente e il cui tema non è soltanto una vicenda medievale ma è il libero arbitrio la dama di charlotte muore perché sceglie di morire lo vuole lei nei tempi e nelle modalità questo crepuscolo della vita e il finale in fausto si avvertono da tanti particolari vediamo le rondini che volano basse e che vanno in direzioni opposte le candele che si stanno spegnendo sono tre vedete una due sono spente una si sta spegnendo il crucifisso adagiato sulla prua della barca l'unica foglia secca che è però sul grembo della dama la lanterna con il lumino molto flebile la luce tenue di tutta l'ambientazione e soprattutto il suo volto afflitto è lo sguardo quello che colpisce della dama di charlotte uno sguardo che non fissa nessun punto in particolare è perso è triste rassegnato è perso nel dramma interiore insomma questo quadro è intriso di teatralità teatralità che serve per esprimere al meglio la drammaticità di questa vicenda waterhouse dipinge altre due dame di charlotte in tutto sono tre le sue dame nella sua carriera ma le altre due seppur bellissime non hanno la magia di quest'ultima dama e ad oggi questa dama di charlotte è quella più coinvolgente e tra tutte la più iconica a